Nel disegno dell'autonomia organizzativa e didattica, l'Istituto Notre Dame della Compassion, con la realtà del territorio, definisce ormai da 60 anni un sistema di opportunità educative che mettono gli elievi in condizioni di formare la propria identità sul piano sociologico e psicopedagogico, assumere comportamenti ispirati all'etica della responsabilità, esprimere il lavoro non solo come valorizzazione di sé, ma anche come esercizio di progettualità, sviluppare competenze strategiche, rafforzare il senso della realtà, punta al successo formativo degli alunni attraverso nuovi saperi, nuovi linguaggi, nuovi contenuti, nuove metodologie che consentono di riconoscere e valorizzare la crescita culturale e le potenzialità di ciascuno. L'Istituto Notre Dame, organizzato oggi come istituto comprensivo con classi di pre-asilo di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e media e con la conseguente organizzazione verticale dei curricoli all'interno di un unico e unitario progetto condiviso, risponde di fatto a tutte quelle istanze pedagogiche che considerano il progetto formativo un continuum da costruire con gradualità e soprattutto con la coerenza. Tire un percorso formativo, dal pre-asilo alla scuola media. Già dall'asilo si insegnano informatica, inglese e musica, si attuano progetti come drammatizzazione e bilinguismo e si praticano attività sportive, si organizzano feste in sede con animazione, spettacoli e baby dance negli ampi locali e nel giardino panoramico. Istituto Notre Dame de la Compassion, Napoli, via Palizzi 3339.